La clinica Atena Villa dei Pini già da alcuni anni è una realtà nel territorio matesino per la diagnosi e la cura delle malattie respiratorie. Ci siamo posti l'obiettivo di allargare la conoscenza di queste patologie nell'Alto Casertano e di far conoscere sempre di più la diagnosi e la cura di queste malattie, soprattutto della broncopneumatia cronico-ostruttiva, che è una malattia che è in notevole aumento in questi ultimi anni. Presso il nostro reparto di medicina interna riusciamo ad effettuare test diagnostici per la stagiazione e la terapia di questa malattia in tempi brevissimi e quindi ci poniamo proprio su un ottimo standard a confronto con le altre realtà del territorio. Da alcuni anni riusciamo anche a fare diagnosi apnea ostruttiva del sonno grazie a un macchinario polisonografico di ultima generazione e un attack multistrato che ci permette di diagnosticare anche le più piccole lesioni polmonari, quindi per una diagnosi precoce del tumore del polmone. Per effettuare gli esami basta rivolgersi al CUP della nostra clinica e chiedere del servizio di malattia d'apparato respiratorio. Grazie. 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 Grazie.